Le origini del monastero di Santa Caterina a Castel Rinaldi risalgono al 1200, dopo una serie di vicissitudini che successivamente alle soppressioni ottocentesche allontanarono le monache, l'attuale comunità religiosa di monache benedettine celestine si è installata nel 1967, ridando vita al monastero, luogo di pace, serenità, preghiera e meditazione è frequentato anche da molti laici, confortevole anche se piccola, molto frequentata da singoli e da gruppi di poche persone. Le monache coltivano il loro orto e ricamano, su commissione, con abilità.